Allora abbiamo il piacere di avere qui con noi il il sindaco di Niderholm, la città gemellata con Bussolengo. Sindaco, una sua impressione su questa fiera e il valore per voi di essere qui? Allora, per me è una cosa molto bella festa. Mi credo, perché ho conosciuto quasi 25 anni, e si è diventato in ultimi anni, è diventato più grande e è diventato interessante. E per noi, come partner americani, vogliamo venire qui per essere qui. Abbiamo la traduzione qui. Allora, il sindaco dice che intanto è molto orgoglioso di essere presente a questa fiera, perché sono 25 anni che ci conosciamo e infatti abbiamo l'anniversario del 25esimo anno di gemellaggio. Inoltre dice che l'anno scorso lui non è venuto, con molto dispiacere perché non ha potuto, e nota che ogni anno la fiera si ingrandisce sempre di più ed è sempre una novità, è sempre qualcosa di molto piacevole anche trascorrere questi giorni con gli amici italiani e condividere con gli amici gemelli un momento così importante. Ecco, sindaco, lei ha giustamente ricordato il 25esimo del gemellaggio. Vuole anticiparci qualcosa sui festeggiamenti? Also, tu hai... Also, wir haben uns schon in Niederolm Gedanken gemacht, wie wir das feiern können. Wir haben auch Vorschläge gemacht. Wir gehen davon aus, dass wir ein großes gemeinsames Fest in Niederolm feiern und ich denke, wir werden auch ein schönes gemeinsames Fest in Italien, hier in Busolengo, feiern. Und vielleicht darf ich das schon erwähnen, wir wollen, wir bauen zurzeit unseren Stadtkern um und da soll ein Brunnen entstehen und an diesem Brunnen wollen wir speziell unsere Partnerschaften würdigen, und es würde sich anbieten in diesem Zusammenhang ein großes gemeinsames Fest zu machen. Allora, ha detto che ha pensato, loro hanno già pensato a Niederolm come poter festeggiare. Le anticipazioni sono un pochino precoci, comunque dice che sicuramente lui immagina una festa comunitaria dove entrambi possiamo partecipare, sia a Niederolm noi e loro qui a Busolengo. Loro stanno costruendo una nuova fontana che vogliono particolarmente dedicare proprio al gemellaggio e quando sarà pronta, la inaugureremo tutti insieme. Bene Sindaco, ringraziamo della sua presenza e del suo contributo. La preghiamo di dare un saluto ai cittadini di Niederolm da parte di tutti i busolenghesi. Grazie. 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 Grazie a tutti.